allora ciao a tutti buongiorno non è troppo corta questa sigla no non è troppo corta bella battuta non è troppo lunga a visti i tempi è lunga giusta anzi forse delle volte dovrei aggiungere un altro periodo di pausa per far arrivare le persone ciao a tutti allora volevo fare mezz'oretta di riflessione su come avete visto dal titolo su quanto sta avvenendo io sono effettivamente molto preoccupato non tanto perché mi aspetti le bombe atomiche nei prossimi giorni anche se visto che in italia gli epidemiologi hanno insegnato che esistono in scenari quando si cerca di capire come possono andare le cose e loro prendono sempre il peggiore l'assolutamente peggiore possibile io tendo a prendere i migliori sono più ottimista e non amo terrorizzare e poi bisogna darci le probabilità siccome esistono i scenari uno scenario è anche quello di un utilizzo tattico di armi nucleari ma è uno degli scenari come dire che richiede altre 20 steps negative prima di avverarsi invece la cosa su cui volevo focalizzarmi brevemente qui è la lettura che si sta dando in italia di questo quindi vorrei evitare di discutere se ragione quali saranno le prossime mosse se adesso si spareranno se le sanzioni sono adatte se si ferma il donbass eccetera questioni che abbiamo discusso ampiamente in questi giorni e che ritorneremo a discutere si tratta di capire un certo mattia marasti guarda che fanno le dichiarazioni i tweet contro le mie dichiarazioni sono in tanti malati di mente filo sovietici sono molti filo russi ed è infatti di questo che volevo parlare perché perché nella giornata di ieri dopo la discorso di putin e la sua decisione di invadere un pezzo di ucraina e la sera mi sono arrivati da svariati di voi messaggi testi e video di persona uno mi ha colpito in particolare di una persona che avevo cominciato a prendere seriamente e cioè barba sofia matteo barba sofia che addirittura ha messo in rete una sua lezione in classe e questo mi ha terrorizzato vedere un professore di liceo o di scuola media superiore anzi che in classe su un evento estremamente delicato come questo non solo fa lezione esprimendo platialmente le sue preferenze e quindi influenzando ragazzi molto giovani ma raccontando palesi bugie a se qualcuno parla con matteo io la faccia sapere caro matteo raccontato le solite bugie furbe all'italiana e cioè cosa bugie di omissione gravissimo peccato nella valutazione dei fatti storici le bugie di omissione sono cruciali se noi omettiamo i prigionieri politici i picchiatori le violenze gli omicidi dalla storia del fascismo e raccontiamo solo la bonifica dell'agropontino la battaglia del grano mussolini un uomo che ha fatto anche delle buone cose però diamo un giudizio distorto di mussolini ecco lo stesso vale quando si racconta la storia della russia dell'urs del post russia delle relazioni russi a nato omettendo fatti cruciali da un lato e dall'altro e si descrive e si accetta come propria l'immagine qui vengo al punto di una russia circondata da dei nemici e quindi su questo vorrei intrattenervi un attimo e cioè riflettere riflettere scusate su perché in italia vi sia questa profondissima ampia area di persone che hanno simpatie sono dei supporti sono dei veri cavalli di troia quinte colonne non so come li volete chiamare di putin del suo regime e dei suoi intenti e che lo sono sulla base di ragionamenti che francamente suggeriscono che non si capisce quale sia la posta in gioco allora sì grazie nico era l'altra cosa che volevo dire vedo che siamo in 300 quindi faccio l'annuncio questa mia breve prolusione durerà altri 15 minuti 20 e poi ci muoviamo magari arriveriamo con un attimo di ritardo ci muoviamo fra 20 minuti circa sul canale youtube e facebook di liberi oltre dove marco bellandi costa e altri hanno organizzato una specie di tavola rotonda al volo ci starò anche io un po poi io a mezzogiorno mio che sono le 19 vostre devo lavorare e quindi vi saluterò avevo un'ora poi purtroppo ho avuto delle chiamate di lavoro ho dovuto iniziare con un po di con 5 6 minuti di vita e quindi ecco io vorrei capire questo meccanismo parto da una prima osservazione state fermi un attimo con i messaggi poi scatenatevi dopo si sono utili idioti mancati fascisti mancati come tutte queste cose qui però è molto grave questa cosa è molto pericolosa e dannosa per noi per esempio e però vanno anche riconosciute altre responsabilità parto da un caso in cui c'è molta responsabilità allora su tweet io ho fatto un'osservazione avete notato che i fanatici di putin sono tipicamente anche innovazione con la correlazione molto alta ed è un fatto dire ho notato una serie di persone che si venivano ad associare ed erano pro putin quindi erano infastidite dal mio fatto dal fatto che io abbia suggerito che in realtà la sanzione migliore dell'europa contro putin a parte quelle immediate militari e prendono la decisione di lungo periodo di raggiungere l'indipendenza energetica totale e l'unica maniera in cui l'europa può raggiungere l'indipendenza energetica totale è scegliere di andare con nucleare di quarta generazione ma secondo me anche di terza visto che in francia e svizzera eccetera funziona ok a questa osservazione a mio rischio banale è però cruciale che fa capire anche i rapporti che esistono fra i regimi alla putin e certi movimenti certe frange di a certi movimenti estremi che si sono posti a qualsiasi forma di nucleare a qualsiasi persino investimento di ricerca ai gas di gasificatori per l'arrivo del gas dall'altro quello del kazakhstan fa capire che lì ci sono ovviamente affinità più o meno indirette ma mi ha sorpreso che fra quelli che mi criticano era strapie non mi ha sorpreso ho notato scusate sto facendo al volo quindi ho notato che fra chi criticava asparamente la mia posizione contraria all'imperialismo putiniano e che suggeriva le sanzioni vi fossero moltissime persone novax e allora cosa succede lì uno fa una riflessione li guarda e si rende conto che c'è un po di tutto e ce n'è una massa seria che è lì semplicemente perché green pass e persecuzione del novax in questi mesi li ha come dire estremizzati li ha colpiti li ha messi in un angolo li ha fatti sentire nemici del proprio paese nemici delle istituzioni nemici della maggioranza e quindi hanno bisogno di vendere allora voi direte come molti fanno e sbagliando classici liberali la puzza sotto il naso e dei quartieri buoni con la giacchettina di tweed e il fazzolettino cosa dicono boh popolare stupido questo è stato sempre l'errore del mondo liberale italiano allora le domande non rispondo quindi non fatevi domande in questo momento se mi concentro a parlare non ok allora per esempio che esiste una grande fascia di popolo che dice oggi emozionalmente putin glielo fa vedere voi capite che dipende anche dal fatto che su molte cose il vaccino è una è un esempio ma un esempio recente è un esempio rilevante c'è una fetta di popolazione che viene trattata a pesci in faccia aver permesso con le operazioni continue e con il continuare per esempio del governo di mantenere l'obbligatorietà del non del green pass in una serie della vaccinazione in una serie di attività che colpiscono in particolare le fasce più deboli della popolazione ti crea una massa di manovra certamente ignorante certamente poco acculturata certamente poco informata certamente economicamente socialmente do debole ma sono ovviamente quelle le persone più facilmente manipolabili dalle dalle informazioni distorte delle fake news disposta a essere contro di te per l'assime c'è ragione che si è sentita che tu sei contro di loro che li hai oppressi che li hai isolati che li hai marginalizzati ora questo aspetto va tenuto in conto ovviamente queste persone non sono in grado di capire che esiste una distanza enorme fra l'errore io l'ho considerato un errore come sapete da agosto scorso io mi sono reso conto che il problema della dell'infettività del differenziale di infettività fra vaccinati e non la differenza che c'è ed è positiva nel senso che i non vaccinati infettano contagiano di più è però piccolo quantitativamente rispetto al costo e andava diminuendo con diffondersi di omicron e quindi del grado di effettività molto alto anche di omicron che visto il beneficio di riduzione del contagio che i meccanismi green pass portavano non valeva proprio la pena mantenere il costo sociale era troppo alto infinitamente ed è andato crescendo adesso è enorme ed è una totale follia lo dico e lo ripeto mi dispiace mario draghi ha sbagliato accedere a speranza e a compagnia su questo il green pass va tolto sono ormai sei mesi che lo ripeto e continuano a ripetere perché perché socialmente dannoso l'odio sociale la viura le frasi del tipo non bisogna curarli eccetera che si sono scatenate in italia e qui sono sicuro che alcuni di voi pure hanno contribuito sono dannosissime e hanno costruito hanno costruito una massa di manovra per ideologi di quel tipo quindi saper riconoscere questa cosa a saper riconoscere questa cosa è molto importante è molto importante perché occorre capire che una parte della massa di manovra del pro putin nello specifico ma in generale che tende ad andare dietro a richiami della foresta messaggi violenti i nemici dell'occidente di una forma o nell'altra no una forma nell'altra che poi prendono altre forme perché ci sono quelli che vanno computi poi ci sono quelli pochissimi però ci sono che si affascinano dell'isis che si affascinano a suo tempo di alcaida che vogliono risorgenza musulmana poi ci sono e sono ben più abbondanti e tendono a essere gli stessi che stanno computi ma qui c'è il secondo gruppo quelli innamorati di maduro dei castro di cuba e probabilmente adesso del nicaragua visto che ortega impazzito pazzito arriva buttato la maschera che sta massacrando gli oppositori e opprimendo il paese e così via ora certamente vedete in ogni fase storia nel paese ci sono dei mestatori ci sono persone ven letteralmente vendute o ci sono puramente delle persone che hanno tanto a odio il mondo in cui vivono tanto a odio il mondo in cui vivono perfumisterie loro per fallimenti nella vita perché è utile per vendere libri prendete di battista uno che non ha né arte né parte solo belloccio sa parlare bene con questo suo accento più o meno campano a una come dire fotogenico ecco a una presenza in video estremamente piacevole si sta costruendo un lavoro una vita raccontando balle facendo il rivoluzionario senza arte né parte per vendere libri non credo sia il soldo di alcuno il soldo di se stesso vende libri fa comparsa a te probabilmente ogni volta che va da qualche parte fa spettacolo o se una tv commerciale riceverà un compenso si è costruito una vita quindi c'è una grande varietà di personaggi che come dire nel torbido rimescolano però il torbido esattamente come si diceva ai tempi delle brigate rosse ai pesci bisogna togliere l'acqua e certe politiche italiane costruiscono acqua e non solo italiani quindi costruire il discontento senza alcuna ragione e davvero questo caso green pass e varie altre norme vaccinali obbligo vaccinali è una maniera per costruire con scontento sociale con pochissimi guadagni netti dal punto di vista di chi quello quelle quelle norme vuole imporre è una pessima politica quindi questa riflessione io volevo farla volevo farla esplicitamente per dirvi occhio la prossima volta perché sono sicuro che moltissimi di voi forse di quelli che ascoltano adesso forse di quelli che ascolteranno questo video in certo punto hanno detto ma vaffanculo che quelli che non si sono vaccinati se le paghino loro le cure ospedaliere ma io non ci voglio andare a cena ma io voglio che nel ristorante di sicuro non ci sia vaccinato non vaccinato è uno stronzo eccetera allora anche io li ho criticati ovviamente ed è chiarissimo che sono persone ignoranti terrorizzate eccetera eccetera che non capiscono costi benefici che non capiscono cos'è il rischio tutto quello che volete voi tutto quello che critica anche dargli dell'idiota ma discriminarli socialmente fino a arrivare gli idioti ci sto perché glielo dovete difendo me stessa ok però la discriminazione sociale no la discriminazione sociale no il costo sociale di fare questo poi lo si paga dopo lo si pagano in occasioni come queste in cui all'improvviso è costruito una massa ampia di milioni di paria che si sentono paria e sono disposti guardate che una regola nelle storie del mondo quante volte quante volte dei paesi si sono autodistrutti delle comunità delle città si sono autodistrutte perché una parte della popolazione odiava tanto l'establishment si sentiva tanto esclusa dalla maggioranza che si è alleata diventata il cavallo di troia dell'invasore di chi ha attaccato eccetera pensate alla storia di gli aztechi con le popolazioni appunto utilizzate da cortes per tirarli giù ok poi c'è l'altro aspetto ovviamente poi ci sono gli ex comunisti qui c'è una fantasia divertentissima che va sbolognata le persone come barba sofia hanno chiaramente simpatie malcelate quel ragazzo che ho incontrato ieri da da ivan che non aveva il coraggio di dire non volevo partire dall'analisi ma tutti non è un nemico o no è un criminale assassino o no è un dittatore violento o no lui non riusciva a dirlo ecco queste sono tutte persone che ovviamente hanno un passato di sinistra ok sono moltissime queste hanno un passato di sinistra si sentono e quindi odiano l'america a priori l'america per loro l'america degli usa per loro è un tutto tutto negativo ovviamente la invidiano poi vanno il rock poi vogliono farsi le canne poi volevano fare gli hippie poi questo poi questo poi leggono che ero a che cazzo ne so poi voglio andare a new york a fare gli alternativi per carità ok sia anche a destra ve ne sono ok ma quelli di destra almeno sono più coerenti quelli di sinistra sono affascinanti perché siccome una volta c'era il comunismo che non avevano capito che cazzo era il comunismo sovietico ed era contro l'america loro adesso pensano che in russia c'è ancora una variante del comunismo che contro l'america c'è proprio un cortocircuito mentale se non si rendono conto che putin è un reazionario prima che il note a leggere lo continuo a ripetere che i teorici a cui si ispira fra cui i più famosi di tutti questo dugin sono a molto reazionari molto di destra di una destra fetida pre illuminista di fatto letteralmente pre illuminista molto europea molto fetida che i loro punti di riferimento ideali sono la vandea in un certo senso i carlisti spagnoli queste cose qua o le teorie riadattate perché c'è la dominanza slava invece di quella ariana ma riadattate della supremazia ariana e così via ok o se volete il modello appunto l'ho messo lì iva nel terreno no no questi ignorano questi fatti o li rimuovono da qui appunto no la il fatto che ho detto che barba sofia ha raccontato delle bugie di omissione ha omisso questi fatti e ha descritto una nato aggressiva nei confronti della russia perché l'america lo vuole perché l'america utilizza la nata come strumento di aggressione della russia perché l'america ha interesse di controllare le risorse naturali che sono nei paesi dell'est in particolare e lì ecco un altro elemento falso ma fondamentale in ragionamento di questo altro gruppo ampio di chiamiamoli socialisti comunisti o ex socialisti ex comunisti ma che si sentono ancora nemici dell'imperialismo americano la favola secondo cui agli stati uniti per sé interessano le materie prime russi in particolare nel petrolio e gas ovviamente tutti sappiamo che così non è sono perfettamente autonomi dal punto di vista energetico in questi giorni con questi prezzi a shale oil è diventato di nuovo ma gli stati uniti non hanno nessun problema di approvvigionamento energetico nessuno la loro indipendenza energetica è totale quindi ai stati uniti delle materie prime russe frega una beata sega non hanno alcun desiderio il problema russo tant'è che per un periodo magari malamente si può andare a discutere i dettagli di ciò che la politica estera americana ha fatto tra la fase io direi assolutamente positiva ha fatto una delle cose migliori direi 85 fino a poi anche bush senior 90 91 di avvicinamento quando è venuto giù l'impero sovietico e poi durante gli anni 90 negli anni 90 secondo me si sono fatti degli sbagli l'appoggio a yeltsin che infatti mi ha sempre preoccupato era era troppo forte però chiunque conosca quegli anni sa che la politica sia degli stati uniti sia europea nei confronti della russia che usciva dalla dall'ursa che usciva dal comunismo che cambiava è stato abbastanza totale poi ci sono stati degli errori delle svolte ma la svolta fondamentale l'ha dato chiaramente putin con la sua decisione che no una volta preso il potere detto no io rifaccio l'impero ora andare oggi a descrivere una nato aggressiva che vuole circondare la russia per aggredirla e non invece una nato difensiva anche perché così è nata e non è mai stata utilizzata in forma aggressiva l'alleanza atlantica in forma difensiva per proteggere quei paesi come l'ucraia come i tre paesi baltici come l'ungheria come la cecoslovacchia come la polonia come la bulgaria come la romania come la moldavia che erano parte delle vari cerchi dell'impero russo alcuni in modo diretto l'ucraina la bielorussia erano parte dell'unione delle repubbliche socialiste sovietiche le altre la polonia e così via le tre baltici pure la polonia così via erano pseudo indipendenti stati cuscinetto ulteriori ecco questi stati si sono storicamente minacciati le loro popolazioni si sono minacciate e neanche ben donde se voi avete ascoltato la follia storica che ieri putin ha sciorinato in cui lateralmente l'ucraina non esiste un'invenzione folle della storia d'europa a parte il ragionamento che dice siccome facciamo finta che resta ragione siccome noi siamo gli eredi diretti del regno russo creato nel mille non mi ricordo e 30 con capitale chieva allora chievo ci appartiene anche se noi siamo mostri siamo tutta un'altra banda di personaggi e sono passati mille anni voi capite che il veneziano tipico potrebbe dire ma creta e mia per non parlare della dalmazia ma insomma cioè folle e folle e totali ok folle e assolutamente totali anche perché come qualcuno ha osservato le prime popolazioni russe che scendevano a commercio di schiavi in realtà vichinghi cioè erano popolazioni scandine e così via questo giochetto di ricostruire e di dare giustificazione morale a un'invasione è una guerra condotta nel 2022 sulla base del fatto che nel mille erotti c'era una cosa sostenendo che l'anzione ucraina non esiste è una totale folle ecco a fronte di questa narrativa folle i barbassofia di questo mondo e non solo lui ripeto moltissimi di questi altri devo dire che Matteo è stato si vedeva che voleva voleva arrivare a delle conclusioni però come dire non voleva dire le parole troppo esplicite quindi quella quella piccolo video che adesso tutti andano a guardare gli sto facendo pubblicità e me ne rendo perfettamente conto ma va bene e vorrei che fossi disposto a discutere frase per frase affermazione storica per affermazione storica si basa su una distorsione che è la distorsione putiniana ciò che questo mondo sta accettando la distorsione putiniana dei fatti ovvero sia che la nato i paesi nati siano gli aggressori che la richiesta ucraina di aderire alla nato sia un atto di aggressione e non un atto di difesa e dire questo cioè dire che l'ucraina che aggredisce e non che si difende mentre i carri armati russi entrano in ucraina dopo essere entrati in crimea dopo essere tentati di entrare in georgia e così via dopo aver operato nel conflitto fra azerbaggiano e armenia e così via e dopo essere entrati non tanti decenni fa a praga e in ungheri a budapest e così via è una tale omissione è un tal falso storico che fa paura ora questo era il messaggio volevo dare siamo in 600 giovani e forti non siamo morti sì ho menzionato Matteo ma perché alla fine Matteo è anche simpatico nel suo comunismo salottiero da buon borghese torinese dovrebbe stare molto attento a non far danno lui e tanti altri che vivono in salotti buoni in palazzi buoni figli del capitalismo figli del mercato figli delle libertà democratiche figli del fatto che non ha vinto secchia ok figli del fatto che non ha vinto secchia secchia ha perso cosuta ha perso e io che c'ero se che non l'ho conosciuto ma cosuta se sono contentissimo abbiamo perso e siano stati sconfitti perché i privilegi il mondo ha molto bello in cui costoro vivono questi professori di liceo questi avvocati questi imprenditori filo putiniani nascosti celati ambigui il mondo di lusso di libertà di piacere in cui vivono è figlio del fatto che secchia ha perso stalin ha perso bresnev ha perso capite hanno perso ed erano loro gli aggressori d'accordo erano loro gli aggressori e lo sono ancora e qui il comunismo c'entra poco davvero il comunismo c'entra pochissimo in tutto questo c'entrano storia europea c'entrano relazioni fra paesi fra gruppi etnici c'entrano ideologie culture di alcuni gruppi vantaggi ricevuti e non ricevuti c'entra il fatto che quando scopri che lavorare produrre commerciare essere libero ti rende più felice che non vivi nella miseria in cui oggi il cittadino russo medio vive smetti di aver voglia di fare la guerra mentre se vivi nella miseria pensi che con la guerra ti appropri dei beni degli altri questo oggi c'entra la ragione per cui una fetta di popolo ampia di popolo russo e dietro a putin che racconta le fantasie sul grande popolo russo è perché vivendo in una vita di merda di povertà di insicurezza di scarse prospettive di sviluppo sociale di bassa cultura di buio fondamentalmente alcolismo e violenza con la vita attesa avete intanto a guardarvi la vita attesa del maschio russo ecco quando vivi in quel mondo me l'ha ricordato ieri sera un collega ha detto ma ci hai visto la differenza nella speranza di vita fra il maschio che è quello che fa il soldato che è quello che fa le guerre che è quello che comanda e le donne in russia e di vent'anni e passa le donne stanno arrivando a livelli di vita attesa europea questi viaggiano a metà dei 50 anni ok ecco quando vivi in quel mondo lì allora ti convinci guardando con invidia quello che hanno gli altri perfino a chievo a berlino a parigi o a v mercate a venezia o a bologna o altanissetta che c'è una maniera per prendere per avere quelle cose lì e andarsene a prendere menandoli ok questo sta succedendo e non dirlo alla gioventù non spiegarlo non far capire che gli aggressori sono i russi e non gli occidentali è un gravissimo peccato di omissione ed è una bugia bene detto questo hanno iniziato su liberi oltre quindi adesso io esco da qui finisco e voi tutti siamo 700 650 dai ragazzi tutti quanti su liberi oltre o ben facebook o ben youtube su youtube c'è la chat quindi un po come qua e meno ci sono meno giochetti insomma non giochi ricchi premi e quotidiano però va benissimo youtube di liberi oltre e via tutto lì io spunto fra cinque minuti ok si youtube è meglio di ci si vede di là ok ciao 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 forza tutti di là sulla youtube di liberi oltre ci si vede per mezz'oretta io poi devo andare a lavorare ok grazie della compagnia mi ha fatto molto piacere poter fare due chiacchiere ok no non su twitch il programma di liberi oltre oggi è su youtube 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 liberi oltre non so se posso mettere il link magari marco mi sta ascoltando qualcuno mi stanno quando me lo passa al volo e qualcuno me lo passa al volo è no non si riesce a vedere comunque entrata youtube liberi oltre la trovate al volo dai su che siete tutti siete tutti molto più rapidi svegli e capaci di me qualche volta ti faccio entrare in live denxiaoping si c'è un bel nome a tessi va bene ciao a tutti allora mi raccomando ci si vede su liberi oltre noi inutile che mettete il link per sembra che non funzioni comunque lo trovate ok seguite liberi oltre io rimango ancora un po forza perché siete ancora tanti forza cavatevi dalle balle andate a liberi oltre ne vedo ancora 650 ok forza ciao ciao e mettete like invece ciao arrivederci ci vediamo